buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi siamo a bordo della tenerona e oggi davano bel tempo su tutta la mia zona e invece è una vera m***a la nostra destinazione è Montargentario dove percorrerò tutta la strada panoramica che quindi costeggia la costa costeggia la costa, va bene, va bene uguale e poi se tutto va bene ci dovrebbe essere anche un piccolo tratto di sterrato e infatti ho sgonfiato leggermente le gomme adesso come ci dice anche il navigatore ci aspettano più di 30 km di noiosissima superstrada per cui credo che ci rivediamo direttamente quando ci avviciniamo nelle zone di Montargentario siamo all'uscita e abbiamo beccato un vecchio che cammina sulla superstrada per Porto Santo Stefano, Porco Ercole e il Monte Argentario mi sono fatto tutto il viaggio sulla superstrada con un taccolozzo di queste dimensioni nella narice destra in più stamattina mi sono svegliato anche con un torcicollo e infatti mi scuso se il video magari si vedrà tipo così passiamo sotto l'arco di trionfo sono un c***o ed ora il lembo di terra che separa Monte Argentario dall'Italia e io non riesco a girare il collo questo è uno dei posti più belli che abbiamo nelle nostre zone e tutte le volte che ci vieni è sempre uno spettacolo nel momento in cui scollini e ti si apre tutto il mare praticamente già qui è bellissimo come vi dicevo dopo questa curva scollina e questo è quello che compare bellissimo guardate che colore è l'acqua Porto Santo Stefano a sinistra abbiamo le case e a destra abbiamo soldi 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 ma che spettacolo è guarda quella barca a vela mamma mia magari se il bambino lo tiene più attaccato qualche anno di più ti dura adesso mi ricordo proprio che la panoramica è questa che moto eh virgola eh ma allora eh ma allora eh qui merita e qui vediamo eh 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 beh eh beh mamma mia Tenerona ti meriti una foto le foto le abbiamo fatte per fare una foto fotonica mi sono arrampicato lassù e non chiedetemi bene come ho fatto possiamo proseguire e continuare la panoramica a breve dovrebbe esserci un altro punto panoramico dove mi sono fermato l'ultima volta a fare delle foto nel frattempo non so perché è partita una sveglia dal mio telefono bene e è mezzogiorno e dieci quindi direi che mi fermo mangio e metto a fare un timelapse alla GoPro e magari stacco anche sta sveglia se non mi ricordo male il punto dovrebbe essere questo magari se trovo un posto all'ombra per la moto madonna che urto mamma mia non lo sopporto più ma va c***o ho appena finito di mangiare adesso risaliamo in sella e andiamo a vedere se troviamo la strada sterrata è bello il contrasto proprio tra la montagna tutta questa roccia e il mare sotto cioè sono due ambienti ed ecosistemi completamente differenti che coesistono vabbè basta il momento Piero Angelo è finito nel frattempo vi dico una piccola news per quanto riguarda il Teneree sono riuscito a comprare finalmente perché erano tipo un anno che dicevo che era tipo un anno che avevo messo nella lista dei desideri di Amazon i telai paramotore non avevo mai avuto i soldi per comprarli fino adesso e invece sono riuscito a mettere da parte quello che serviva per l'acquisto e li ho ordinati e dovrebbero stare in consegna proprio oggi il prossimo acquisto dovrebbero essere i faretti supplementari quelli che vanno ai lati della moto ma non ho i dindi per chi non lo sapesse i dindi sono i soldini minchia ma che ficata mamma mia cioè noi stiamo scendendo da là madonna raga sta strada non finisce più se questo mi fa passare io evito una sauna mamma mia questo questo però sta per diventare nuro è nuro guardate quanto siamo in alto credo sia meglio fermarci un attimo e vedere dove siamo dobbiamo andare sopra quindi questo signori è enduro puro no non è vero è soltanto un po' di sterrato perché io enduro non lo so fare speriamo di non andare per terra cioè la parte difficile non è tanto fare lo sterrato è guardare il navigatore mentre fai sterrato mamma mia ragazzi mamma mia qui foto foto fotonica foto fotonica per forza per forza la tenerona non teme niente nessuno la parte più paurosa di tutto questo è che se sbagli e vai per terra vai di sotto cioè mi sto divertendo un mondo ci mettiamo in piedi e andiamo se buchiamo qui siamo fattuti mi giuro ragazzi non mi sono mai divertito così tanto che giornata bellissima che emozione ragazzi sto giro è stato veramente emozionante ci stiamo ufficialmente lasciando alle spalle Porto Santo Stefano con tutto il monte argentario che oggi ci ha regalato uno dei giri più belli che io abbia mai fatto di conseguenza anche per questo video è tutto nel caso vi fosse piaciuto iscrivetevi al canale qui sopra altrimenti lasciate un commento di un mi piace qua sotto noi ci vediamo al prossimo video ciao chicchi ciao 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 Grazie a tutti.